Il numero 96, Itana Gurbic, mister tedesco, squadra rinnovata questo Montenegro, ma quando hai un terzino, parliamo nello specifico della Janukovic che è del 96 e ha già giocato una semifinale di Champions League e la settimana in settimana. Ti ha fatto vincere con la Slovacchia perché di gol ne ha messi dentro otto, allora l'età diventa un dato relativo. L'età non è così importante a questo livello, chi è forte gioca ad altissimo livello, questa Janukovic è un po' l'incubo del nostro staff tecnico, ne ho parlato stamattina con Riccardo, con Hernani e con Sergio Palazzi, si aspettano una giocatrice come in realtà una giocatrice decisiva a prescindere dalla sua età. E vedremo quale sarà la disposizione, lo starting seven del tecnico Riccardo Trillini per quanto riguarda la nostra formazione. Dicevamo dei duemila spettatori poco più che hanno gremito e la Pala San Filippo è stato davvero forte il battaggio in queste settimane, in questi mesi che hanno accompagnato questa gara e alla quale l'Italia arriva con la volontà di reagire dopo, dicevamo, la sconfitta piuttosto pesante, una 40-13 senza appello per le nostre azzurre in Polonia. Lubin contro però quella che è di fatto la favorita per la vittoria di questo girone di qualificazione ai campionati europei. Dall'altra parte c'è il Montenegro, Montenegro che è affaticato forse un po' a sorpresa, 24-23 a Podgorica contro la Slovacchia. Comunque vincere, anche se di un gol vuol dire che la squadra nonostante sia giovane, ha già una maturità importante per questo sport. Io credo che il problema in Polonia si sia sviluppato nel secondo tempo perché il primo tempo era stato ancora accettabile, probabilmente le ragazze hanno visto il buio dopo questo primo tempo anche per la desuetudine alle partite così intense. Speriamo che siano già più preparate oggi pomeriggio a confrontarsi con questo livello. Ecco, come Riccardo Trellini e il suo staff, tu che hai parlato con loro, hanno preparato questa gara, soprattutto da un punto di vista della reazione psicologica dopo quel 40-13? Beh, io ho parlato e loro vogliono avere degli sviluppi sul gioco che stanno cercando di dare a questa squadra. Questo è un primo punto tecnico. Secondo punto è che devono essere capaci di andare oltre gli errori che normalmente si fanno e non cadere in una depressione di gioco che non fa bene alla squadra e non fa bene al rendimento. È tutta una cosa in progresso, sono lavori in progresso e quindi dobbiamo apprezzare lo sforzo che viene fatto minuto per minuto. È iniziata la sfida in maglia azzurra, l'Italia che attacca da sinistra a destra dei vostri schermi, si difende in maglia nera a bande gialle il Montenegro. C'è subito un'interruzione, abbiamo modo di dare un'occhiata a quello che è lo starting seven. Dunque, proposto da Riccardo Trellini con Monica Prunster, il capitano italiano tra i pali, sulle ali c'è Gheorghi a destra e Babbo a sinistra, il pivot è Bianca del Balzo, il trio dei terzini, con Laura Rotondo, Rafika e Taki che rientra dopo i guai fisici che l'avevano vista fuori in Apologna. La centrale è Valentina Landri. Per quanto riguarda invece la coppia arbitrale sono i signori Andrei Smailagic e Sandro Smailagic, entrambi di nazionalità svedese. Telemacos Savides, Cipriota è il delegato della Federazione Europea. Il gioco è fermo, l'inquadratura è proprio per uno dei due direttori di gara. Le squadre sono ferme in campo. C'è stato un problema appunto con il cronometro. Dunque, Fantoni in panchina, inizia Landri. Trellini ha voluto prediligere una giocatrice che era già nel gruppo e ha lavorato nel gruppo per più tempo rispetto a Fantoni, che è arrivata invece solo per la partita in Italia. In effetti è così, un allenatore cerca di privilegiare le giocatrici che hanno fatto allenamento con lui, che sono più inserite nel sistema di gioco. Irene Fantoni che fa parte della colonia di giocatrici azzurre che milita all'estero. C'è Rafi Gettacchi che gioca in Bundesliga in Germania. Cristina Gheorghe invece milita nella formazione del Dunarea Braila in Romania. Per Fantoni, secondo anno in Norvegia. Quest'anno veste la maglia del Glasberg nella prima lega norvegese. In Norvegia anche Angela Cappellaro che invece milita nella seconda divisione. Nella formazione dello Skrim Kosberg è iniziato il gioco attacco dell'Italia, è la prima della partita. Landri e Taki. Talla subito per Landri che se ne va molto bene Valentina Landri. Hanno fermato il gioco. Dio direttori di gara. Vediamo il replay. Si riparte con nuovamente l'Italia. Landri. Ha trovato una buonissima penetrazione da Landri. Direttori di gara hanno però fermato il gioco con un attimo d'anticipo rispetto all'azione di Landri. Fallo su rotondo. Ora dobbiamo ripartire. Abbiamo rivisto ancora il replay Landri. C'è il movimento di Delbalzo che va a giocare ad appoggio. Si è alzato il braccio del passivo. L'Italia con Taki. Che ha spazio per la conclusione. C'è però la parata da parte di Marina Rejic che neutralizza. Una conclusione non troppo angolata però di Taki. Ci ha messo sotto pressione il braccio del passivo degli arbitri. Avrebbero dovuto gestire ancora un po' di più la palla. Jaukovic. Eccola la giocatrice tanto temuta dalla nostra staff tecnica. Mette subito dentro la rete dell'1-0. Si è alzata senza difficoltà. E ha bucato Monica Pronster. Ha avventuato il pivot nella posizione ideale per farla tirare fra terzo e quarto difensore. E ha approfittato subito di questa posizione. Si riorganizza l'Italia che attacca con Landri. Ora che lavora da terzino sinistro. E Taki. Rotondo. Ancora Landri. La palla per Taki largo. Sulla destra va a tagliare come doppio pivot. E Taki c'è il tiro sporcato dal muro. Da parte di Laura Rotondo. Bisogna ripartire con una pallone però ancora nelle mani delle azzure. Rivediamo l'azione con il tentativo murato. Palla che è finita oltre alla linea di fondo. Landri. Sempre Italia avanti. Viene posizionata del balzo. Dove c'è Taki ad attaccare. Per dare spazio all'altra parte. Ancora è Taki. Una serie di finte. Va a pescare proprio del balzo. Che però ha messo un'infrazione. Invasione. E può accelerare il Montenegro. Che in velocità va a sbattere contro una Monica Proster subito eccezionale. Questo è un portiere che si sente nei momenti di difficoltà. Qual è questo? Dopo tre minuti non abbiamo ancora segnato. E quindi Monica ha salvato la squadra in questo momento. Che parata ha fatto. Monica Proster è andata verso il basso. Poi però con la mano protesa è riuscita a deviare il pallone. Restiamo sotto di una sola rete. Possiamo attaccare per il possibile pareggio. E Taki. Per vie centrali. Poi Rotondo che libera la conclusione. Raisic però era lì. Ha letto con anticipo l'azione. Siamo bravi a rientrare con Taki. Ottimo il rientro di Taki. Mentre Rotondo ha tirato troppo velocemente. e col portiere che l'aspettava proprio in quel posto. Raisic va verso l'esterno. Poi ha liberato la compagna. La rete di Ivona Pavicevic. Che è stata ben pescata da Raisic. Tutto facile. L'espressione di Rafika e Taki. Nei confronti di Georg che difendeva da primo difensore. Voleva forse un aiuto in meno. E dare meno spazio all'ala e Taki. Abbiamo un cambio attacco difese di Fantoni. Landry. Rotondo. E Taki deve sbloccarsi l'Italia. Tre e mezzo sul cronometro. Ancora Rotondo. E Taki. Che però commette un'infrazione di passi. Cambio di possesso. Riparte il Montenegro. In velocità. Giaukovic. Poi il pallone per Raisic. Fallo in attacco. Cambio di possesso anche stavolta. Riconquistiamo il pallone. Mi pare che i signori in arancio abbiano troppo voglia di fischiare in questa partita. Dovrebbero lasciare giocare un po' di più le squadre. Pallone in mano all'Italia. E Taki. Rotondo. Landry. E Taki ancora. Ecco Delbasso. Solita soluzione. Solito principio d'azione dell'Italia con il taglio. Però stavolta di Babbo. Prova Georg. E Taki. Spazio per la conclusione. Il palo stavolta. La ribattuta è raccolta da Landry. Gaspazio. Landry. Landry. Rete. Di Valentino Landry. Quattro e mezzo che sono andati nel corso del primo tempo. Ci sblocchiamo anche con un po' di fortuna. Ma un gol meritato dell'Italia. Splendio gol. Tiro dell'Ettaki. E' grandissimo la Landry a recuperare la palla. Ma il tiro era veramente bello. E ora un'ottima difesa del balzo e Rotondo. Rotondo viene ammonita. Avete visto inquadrato Dragan Azic. Il tecnico del Montenegro. Un mostro sacro della pallamano mondiale. Con la nazionale montenegrina. Un oro agli europei nel 2012. E un argento alle Olimpiadi. Nello stesso anno a Londra. Ancora ottima difesa dell'Italia. Stavolta con il duo Fanton e Taki. Jaukovic con due pivot il Montenegro. E Pruster va a chiudere la porta. Sulla conclusione del pivot avversario. Ottima. Ancora la parata di Monica Pruster. Che ci concede l'opportunità di attaccare. Per provare a pareggiare. Veramente importante il portiere. Perché ci consente di giocare sotto di un gol dopo cinque minuti. E quindi siamo in partita. Pienamente in partita. Qua d'altura per Hernani Savini. Sistente allenatore di coach. Riccardo Trilini del direttore tecnico azzurro. Landri. Prova la conclusione in appoggio. Il muro ancora a deviare il pallone. Nuovo possesso Italia però ancora. Potevamo essere più fortunati perché il tiro aveva completamente spiazzato il portiere. Sempre però opportunità di gestire il possesso della sfera per le azzurre. Rotondo. Il sottomano di Rotondo. La parata. Stavolta una gran parata quella di Marina Rai. Grandissimo gesto tecnico di questa portiera che gioca in Francia. Il nuovo difensore che milita nel Mets. Giocatrice di grande esperienza. Tante le stagioni nel Champions League. Italia riesce a difendersi bene con del balzo 9 metri. Veramente un bel tiro di Rotondo. E questa solo una grande parata poteva evitare il gol. Sempre 2-1 il punteggio. 6 e mezzo trascorso in questo primo tempo. Rajcevic. Yaukovic. La serie di finte va dentro lei. Yaukovic. Pruster. Ancora. Monica Pruster. Eccezionale questo intervento. E possiamo ripartire. Fanton. Va lei verso Sistra. E' lo scarico per Babbo che però non ha spazio. Deve riorganizzarsi l'Italia. E Fanton esce per il consueto cambio attacco difesa tra Gheorghe. E' importante che Pruster ha evitato un gol. Supprenda un errore della difesa. E questo è molto importante per le dinamiche psicologiche della squadra. Terzo intervento di Monica Pruster. Che dopo 7 minuti ci permette ancora di attaccare sotto di una sola rete. Gheorghe. C'è un fallo però di una difesa montenegrina arcigna nei confronti di attacchi. Rotondo. La conclusione. Ancora Rajcevic. Poi si lotta per un pallone vagante che viene però ancora gestito dalla formazione del Montenegro. Una serie di finte. Il pallone è largo. Arriva alla conclusione. Vincente rete da parte di Diana Iujicic. E poi il Montenegro ha giocatrici che sono in grado comunque di tirare fuori queste reti importanti poi nel bilancio complessivo della gara. Oltretutto nell'analisi tattica dello staff italiano erano molto temuti le due ali perché a questo livello qui le percentuali da quell'angolo soprattutto quando sono gli aiuti sui terzini sono altissime. Infatti abbiamo visto la frequenza dei gol dall'ala. Entrata dalla costa. Ingresso proprio per Ilara dalla costa classe 94 militare nella formazione della IOMI Salerno con cui ha conquistato lo scudetto lo scorso anno la Supercoppa quest'anno. Eccola in possesso. Poi tocca a dettagli gestire questo pallone. Landry ottimo il taglio di Gheorghe che però perde l'attimo per girarsi e andare a concludere. Ha perso il momento decisivo. Era straordinaria l'intuizione di Landry perché ha trovato il timing giusto per dare questa palla. Peccato questa incertezza di Gheorghe. Ecco il replay. Ha perso davvero il momento giusto per buttarsi dentro. Avrebbe tirato fuori qualcosa di buono. Un gol o un tiro dai 7 metri. Del balzo. Etachi. Ecco dalla costa un incrocio. Ancora Rafi Etachi. Intanto il coro Italia. Italia accompagna quest'azione delle azzurre. Palla però che è terminata a lato. Aveva trovato lo spazio per una buona conclusione. Etachi è mancata la mira. Io devo dire la verità. Questa è una buonissima situazione di tiro. Poi tecnicamente è stata sbagliata ma la squadra ha lavorato bene per questo tiro. Rajcevic e Jaukovic. Fallo in 9 metri. Buona uscita della Fanton sulla Jaukovic. In posizione di terzino destro invece c'è Premovic. Jaukovic. Ancora Rajcevic. Poi il movimento per liberare il pivot. Questa è una grande azione del Montenegro. Disattenzione difensiva dell'Italia. Tatiana Bernovic mette dentro. La palla ha girato molto velocemente. Ci sono state due minacce consecutive di tiro. L'Italia è saltata nel sistema difensivo ma grazie proprio a una grande azione del Montenegro. e Tacchi per Landri. Dalla costa ancora Landri. E Tacchi una serie di cambi di posizione dell'Italia che prova a far muovere la difesa del Montenegro. Improvvisa accelerazione di Landri che viene fermata fallosamente. Due minuti. Superiorità numerica per le azzure. Prima sospensione temporanea per Jaukovic. Devo dire che Landri sta giocando molto bene in questi primi dieci minuti. A ritmo vede gli spazi. Il primo gol era un buonissimo gol. Non so perché lo hanno annullato ma sta vedendo la partita molto bene. E Tacchi. Ancora Landri. Vediamo come si comporta l'Italia con una giocatrice in più adesso. Inserimento il secondo pivot. Larga la palla per Gheorghe che ha spazio per la conclusione. Ha tirato però con troppa fretta Cristina Gheorghe che ha concluso direttamente addosso a Marina Rajcic. Probabilmente la Gheorghe doveva prendere ancora mezzo metro di spazio che aveva a disposizione. Invece si è accontentata di tirare abbastanza velocemente. Questo ha determinato una parata abbastanza semplice a questi livelli. Entrata ora nelle fila del Montenegro Despotovic. In posizione di terzino o sinistro. Giocatrice che milita nel Krim in Slovenia. E noi abbiamo cambiato atteggiamento tattico difensivo con 5-1. Babbo in posizione di centroavanti che prova a disturbare questa azione offensiva del Montenegro. Che però va a concludere. E realizza con Uikic. Non è possibile concedere però in superiorità numerica un gol così. No, questo no. E c'è stato un aiuto non necessario portato sul terzino e ha liberato Lara. Ma siamo uno in più. Non serve questo aiuto. 5-1 il punteggio. Serve alle azzurre anche la calore del numerosissimo pubblico del Palazzo San Filippo. Qui a Brescia. E Taki. Landri. Dalla costa. Ancora Rajcic. Pallone oltre la linea dell'auto. Il possesso è ancora azzurro. Questo è l'intervento di Rajcic. Nel replay dalla costa. Poi Landri. Sondamento. Palla riconquistata dal Montenegro. Prima scelta sbagliata di Landri. In 11 minuti e mezzo. Fino adesso la palla aveva girato molto bene. Avevamo fatto qualche errore tecnico al tiro. Questo è un errore che non ci voleva. Abbiamo costruito però tante buone conclusioni. Ora dobbiamo cominciare a metterla dentro. Il gioco è fluito. Adesso dobbiamo veramente segnare. Rajcevic. Despotovic. Sempre con una giocatrice in meno. Nel Montenegro. Ecco Despotovic. Fa girare molto bene però la palla. La squadra di Azic. Che vede rientrare ora Pavicevic. Con il numero 55. Si gioca quindi in 7 contro 7. Fallo di Delbalzo. Due minuti. Secondo l'avviso dei direttori di gara. Un fallo direttamente sul braccio dell'avversario. Bianca Delbalzo deve accomodarsi in panchina. Ora l'inferiorità numerica tocca a noi. È in panchina. Si è alzata Cappellaro. Abbiamo aumentato il livello di aggressività perché stava per scadere i due minuti del Montenegro. Ma siamo in corso in questo fallo da due minuti che per noi è pesante. Siamo al dodicesimo minuto. Rajcevic. Fala per Jaukovic. Sono soprattutto queste due giocatrici a costruire la fase offensiva del Montenegro. C'è un ottimo passaggio dietro la schiena. Uno sfondamento però. Secondo il direttore di gara. A cambio di possesso possiamo attaccare. Buon comportamento difensivo in 5 contro 6. Prima abbiamo sbagliato in 6 contro 5 e abbiamo rimediato con questa difesa. Con una giocatrice in meno l'Italia. E Taki. E c'è il time out chiamato da coach Hernani Savini. Noi ci fermiamo un attimo. Super spot e poi torniamo in diretta da Brescia con Italia Montenegro. Torniamo in diretta dalla pala San Filippo di Brescia. Time out chiamato da coach Hernani Savini. mister tedesco 5 a 1 dicevamo tante buone azioni dell'Italia che ha costruito molto al tiro. Sono mancati i gol. Io è la prima versione perché ho visto veramente poco l'operità in Polonia. Mi sembra una squadra che abbia delle idee chiare che stia cercando di metterle in opera. Qualche volta si esegue un po' troppo ma è una giusta ricerca di dare una struttura al proprio gioco. Ci è mancato qualcosa a livello individuale sul tiro perché l'azione... Io come allenatore sarei contento fino a questo momento di quello che abbiamo proposto in campo. Chiaro dobbiamo essere più efficaci. Per esempio il tiro della Gheorghe meritava uno spazio maggiore per essere eseguito. E quindi abbiamo bisogno di qualche gol. Fino ad ora c'è da dire anche che Marina Raicic tra i pali del Montenegro sta facendo il suo dovere fino in fondo. Assolutamente sì. Adesso per esempio giochiamo senza portiera. Questa è un'altra sfida coraggiosa dello staff tecnico. Giochiamo a porta vuota, a empty goal e vediamo come ce la capiamo. E Taki, Landry, il movimento di Cappellaro neoentrata sostituito del balzo sulla linea dei 6 metri. Landry, tanto movimento dell'Italia che però non riesce a ricavare lo spazio per una conclusione pulita. Si è alzato il braccio del passivo dalla costa che deve però riprendere posizione perché gioca sul lato dell'attacco non suo, non proprio per il suo braccio di tiro. ci riposizioniamo ma è sempre alzato il braccio del passivo. E Taki, fermo il gioco, c'è un'ammunizione all'indirizzo di Elena Despotovic, il numero 80 della squadra di Azic. E quindi per regolamento non c'è più passivo, siamo tornati a giocare senza portiere. Landry, ecco E Taki, abbiamo dunque l'opportunità di attaccare con pazienza. Cappellaro, E Taki, Landry va in velocità, E Taki la soluzione è la stessa però adottata poco fa ci ritroviamo con E Taki che deve tirare da una posizione non sua. Il tiro è stato murato, palla riconquistata dal Montenegro che è con Raicevic poi a vita facile e va a realizzare il 6 a 1. Abbiamo un compito sicuramente, quello di prendere pochi due minuti perché quando siamo in forità numerica loro si possono lanciare più in velocità e gli spazi sono veramente devastanti. E invece noi abbiamo bisogno di essere compatte in difesa. E ora c'è un cambio anche nella fase d'attacco, viene schierata Irene Fanton che gioca da terzino destro. Resta dunque Landry come centrale, una nuova soluzione tattica quella proposta da Riccardo Trillini perché Fanton veniva abitualmente schierata da centrale. Ora invece agisce da terzino destro, il tiro da parte di Dallacosta ha parato a Raicevic. Il pallone poi riconquistato ancora dal Montenegro, un altro errore purtroppo al tiro dell'Italia. E' ottima questa intuizione che porta al gol di Diana Ulkic. Un gran passaggio, un pallone di ritorno davvero illuminante per questa rete di Ulkic. 7 a 1, adesso si sta spegnendo la luce in casa Italia. E soprattutto abbiamo un problema che quando sbagliamo il tiro e non siamo ben messi in difesa nella fase di transizione, nella fase diciamo di azione prolungata, di velocità, soffriamo moltissimo perché non abbiamo le posizioni giuste in difesa. Fanton, un incrocio per Landry che cerca la velocità, cambia direzione improvvisamente Landry ma la difesa del Montefegro è attenta e ferma il nostro centrale. Ancora Dallacosta. Landry, un incrocio per Fanton. Dallacosta, Fanton in posizione di centrale, prova Fanton a liberare il pivot, non c'è spazio però per Cappellaro. Gheorghe, il tiro da parte di Valentina Landry, sopra il muro, rete, ancora Landry, seconda rete per lei. E siamo sulla 7 a 2, accorciamo ancora con Landry. La proiezione del punteggio al trentesimo sarebbe 14 per 2, 28 gol, non sarebbe neanche male. Il problema è il numero dei gol in attacco che stiamo facendo. Rajcevic, ora con un greggio a sto tecnico, un tiro in appoggio sopra il nostro muro che rivediamo, ha messo fuori casa Dallacosta, sul piede destro come piede d'appoggio, a rubare il tempo a difensore e portiere. Allunga ancora il Montenegro. Despotovic ora come centroavanti nella squadra di Azic. Lo schieramento difensivo, Fanton, Landry va a tagliare Fanton come doppio pivot, c'è spazio per Dallacosta. Ancora il tiro di Valentina Landry, che ha capito che da quella parte si può far male, allora perché non tornarsi, perché non metter dentro il terzo gol, azzurro, palla riconquistata adesso anche. E' dall'inizio della partita che Valentina Landry sta giocando un buonissimo match. E' pericolosa, è intuitiva e sta facendo vedere che si può fare gol contro questa difesa. quando il talento e soprattutto la grande determinazione riescono a superire anche ad un fisico che a questi livelli non è forse lo stesso in termini di centimetri delle avversarie, ma poi ne hai messi tre su altre tanti gol dell'Italia. E' entrata ora Giusy Ganga, classe 89, giocatrice del Conversano, in posizione di centrale. Il tiro di Dallacosta, ci si mette anche la sfortuna perché la palla finisce sulla traversa, Rajic battuta. Questo è un tiro di livello internazionale, da terzino che può giocare a livello internazionale. E' vero che abbiamo preso la traversa, ma se lo fa la Jaukovic può farlo anche la Dallacosta. Jaukovic va a sbattere contro Pruster, intervento del nostro estremo difensore, palla che però è finita, oltre la linea laterale poi, conclusione che finisce altissima di Rajic. Ganga in velocità, palla per Dallacosta. Fantone, il cambio di direzione di Fantone che prova ad infilarsi, non riesce però a buttarsi dentro Irene Fantone. La chiara intenzione di Trilini con il cambio, Landry Gang, è quello di tenere il ritmo alto nella fase offensiva. Questa è una decisione che mi trovo particolarmente d'accordo. Questa è una nazionale, devono giocare tutte possibilmente per avere il ritmo alto. E già sono entrate 10-11 giocatrici fino a questo momento. È una buonissima rotazione. Landry è stata la migliore, ma ha bisogno di rifiutare. C'è un fallo su Irene Fantone, è alzato il braccio del passivo da parte dei direttori di gara. Vediamo chi andrà a concludere. Con ogni probabilità Dallacosta, che però non ha la giusta rincorsa. Allora palla a Fantone, la finta di Fantone che libera. Questa conclusione sporcata dal muro è controllata poi da Marina Rajic. Grazievic, senza particolari apprezzioni. Fallo della nostra difesa. 9 metri a beneficio del Montenegro. Rajcevic, Jaukovic. La pressione di Rafika Ittaki, che riesce a frammentare la stazione d'attacco del Montenegro. Ancora Jaukovic, la pressione di Ittaki. Deve recuperare Fantone. Lo scarico per Wikic. Ha provato Monica Pruster a gettarsi quasi addosso alla tiratrice del Montenegro, che però è riuscita comunque con il braccio a scavalcare il nostro estremo difensore, a mettere dentro il gol del 9-3. Continuiamo a prendere gol dalle posizioni degli angoli. Prima invece, nelle azioni precedenti, abbiamo fatto due buonissime difese sui terzini. Questo è un buon dato per la nazionale italiana. Fa ruotare ancora le proprie giocatrici Trillini, perché è entrata Trombetta come terzino destro. È uscita Fantone, anzi Trombetta come alla destra, e c'è Gheorghe che gioca in posizione di terzino. Eccola, in possesso di palo, la giocatrice che milita in un'area Braila in Romania. Gheorghe, le sue finte, Gheorghe quasi esciva via il pallone, è stata però fermata in maniera fallosa. 9 metri. Rimette in gioco Cappellaro. Ganga. Gheorghe. Dalla costa. Ganga ancora. Poi Gheorghe, le sue finte. Ganga in palleggio. Dalla costa, deve buttarsi dentro, ci riesce. C'è un fallo con una munizione. Ha avuto un attimo di pensamento di troppo, doveva buttarsi più velocemente in quello spazio, ma l'azione era buona. Perché questo 9 metri, se si fosse buttata dentro, sarebbe stato un 7 metri. Esattamente. Gheorghe. Prova lo scavalcamento largo per Trombetta. Ancora un fallo. Buona iniziativa. Tentato un uno contro uno, non facile, ma bisognava provarlo. Di questa classe 96, origini napoletane. Milita nella IOM in Salerno. Ha giocato anche con conversare d'estenze. Rita Trombetta. Gheorghe. Babbo. Ha cercato un passaggio al pivot, l'idea era buona. C'è stato però un fallo ancora di una difesa del Montenegro, sempre molto concentrata, molto attenta, che non ci lascia spazi. Si riprende a giocare. Braccio alzato del passivo ancora. Gheorghe. Il tiro di Gheorghe. Palla però controllata da Rijicic. Non c'era la potenza necessaria in questo tiro. Białkovic. L'uscita di Cappellaro. Lo scarico dietro la schiena sarebbe stato un gran passaggio. Tutto determinato, questo ruolo, dal Montenegro, dalla difesa italiana che ha portato due anticipi sulla stessa azione. Vene a particolare di Cappellaro che è andata a chiudere sull'attentativo di passaggio. Dobbiamo velocizzare il ritmo della nostra azione d'attacco. Dalla costa. Fanton però va a riorganizzare la fase offensiva delle azzurre. Cambio. Esce dalla costa. Entra Rotondo. Che ha avuto l'inizio di partita un po' complicato. Penso che possa fare meglio di quello che ha fatto fino adesso. Rotondo ora è al centro della nostra fase d'attacco. Fanton. Ganga. Ecco Rotondo. Il passaggio non è preciso. Palla che finisce nella terra di nessuno. Direttamente oltre la linea laterale. Forse il primo attacco, il primo errore in fase di costruzione dell'attacco da parte dell'Italia. Questo dopo 22 minuti, poco più. E qui come dicevamo prima, quando non siamo ancora schierate bene in difesa, siamo fuori equilibrio. E questo è un due minuti che ci sta tutto perché avevamo una colpevole posizione difensiva. E' uscita, anzi deve accomodarsi forzatamente in panchina trombetta per una sanzione. Un due minuti per l'appunto Jaukovic. Rajcevic. Questo attacco del Montenegro che è avanti sul più 6. Rajcevic. Palla sul pivot. E Monica Proster riesce, in accaduta, a neutralizzare questa conclusione. Fanton. Fanton. Gran passaggio per il pivot. Questa invasione, invasione, avete sentito accanto a me, coach tedesco, perché dalla nostra postazione effettivamente l'invasione non sembrava esserci ma siamo abbastanza lontani. Sicuramente siamo più lontani di Vianchi. E' stato un urlo da tifoso, diciamo. E' scappato un urlo perché era un'azione molto bella, una grandissima ricezione, ma è della nostra ala. Comunque da questo replay abbiamo potuto vedere che non c'era l'invasione, effettivamente. Abbiamo poi tralasciato di dire una fantastica Prunster ancora, seconda parata consecutiva. Eh sì, eh sì. Cappellaro per l'attacco dell'Italia. Rotondo, ancora Fanton, una serie di incroci. Fanton prova a fare tutto da sola, viene fermata fallosamente. Rimette in gioco Cappellaro. Rotondo, mentre abbiamo rivisto il replay del tentativo di Fanton. Rotondo, arriva rilanciata, prova la conclusione insidiosa. Palla che però viene ancora una volta neutralizzata da Rajcic. E il Montenegro in velocità, con il proprio pivot, prova a costruire questa azione. Vediamo qual è la decisione della coppia arbitrale. Semplicemente un 9 metri. Buonissima difesa della Fanton in questa situazione. Ha resistito a un uno contro uno difficile. Andata a chiudere molto bene Rene Fanton su questo tentativo di Bobana Klikovac. Il pivot Montenegrino che rimette in gioco il pallone. Rajcevic per Jaukovic che ha spazio per andare dentro. Lo sfondamento conquistato da Angela Cappellaro. Super scelta difensiva. La stavo guardando perché guardavo il momento in cui sarebbe partita ed è partita nell'attimo giusto. Ha offerto lo spazio e poi è andata a chiudere con il corpo a posizionarsi riconquistando questo pallone. Trattasi di tattica individuale in questo momento. Fanton e Taki. Pallone per Cappellaro che ha appoggiato ancora su Taki. Fanton prova un cambio di direzione ma lei verso l'esterno. Fallo da parte di Premovic. 9 metri il Cappellaro fa ripartire l'azione. E Taki. Prova a girarsi su se stessa ma non riesce a liberarsi della marcatura di Rajcevic. Sempre 9 a 3 il punteggio. Siamo al 25esimo minuto. Passivo segnalato su questo attacco dell'Italia. E Taki. C'è un pallone proprio per E Taki. Conclusione. Ancora una volta parata però dalla solita Rajcevic. Sul ribaltamento il Montenegro. Trova una gol fortunoso. Stavolta siamo stati molto sfortunati. Palla che è entrata beffardamente in porta. E la decima rete del Montenegro era un passaggio al pivot. Una palla mancata Rajcevic. Poi è stata fortunata perché Pruster non si aspettava chiaramente che il pallone finisse così velocemente dalle sue parti. Palla che è scivolata lentamente in porta. 10 a 3. E ora non dobbiamo farci abbattere però. Né da questo gol né dal divario di sette reti. Siamo al 26esimo. Abbiamo lavorato molto bene fino adesso in difesa. E quindi dobbiamo continuare. Sperando di avere un po' più di forza in questi tiri. Rotondo. E' la rete di Laura Rotondo. Il primo gol del nostro terzino sinistro. Classe 92 del Conversano. Ne ha messe 6 contro la Polonia. È stata la nostra top scorer. Abbiamo assolutamente bisogno dei suoi gol. Fino adesso è mancata un po' Laura. Lei deve essere più aggressiva di quello che ha giocato fino adesso. Miglior marcatrice italiana della passata stagione nel campionato di Serie 1 femminile. Laura Rotondo. Despotovic per il possesso del Montenegro. Iaukovic va a riposizionare il pivot. Va lei in fase offensiva. Lo scarico. Attenzione. C'è la conclusione. Vincente. La rete della Montenegro con la numero 55. Ivona Pavicevic. Che ha messo dentro per l'11-4. Il light motive di attacco del Montenegro. a difesa schierata è la ricerca del Pio D'Aleani. Stanno invece un po' mancando sul versante italiano dove stiamo facendo faticare molto i nostri terzini e tachi. Fanton. Palla per il tiro da parte di Laura Rotondo che adesso deve aver scaldato il braccio perché mette sotto la traversa un pallone che mette in difficoltà Rajcic. Vediamo adesso se Laura Rotondo può diventare il punto di riferimento della nostra partita in attacco. questo è la Rotondo che siamo abituati a vedere in campo. Despotovic. Ora dobbiamo chiudere incrascendo questo primo tempo. Dobbiamo farlo però serrando le file in difesa. Jaukovic. è ottima la chiusura da parte ancora di Rotondo con la complicità di Cappellaro che difende come secondo nello scacchiere nella 6-0 voluta da Trillini. Despotovic. Conclusione da fuori spiazzata Pruster un gol che è apparso come facile facile questo di Sania Premovic che è davvero andato sopra il muro ha spiazzato il nostro portiere. Sì, qui c'è stato un errore tecnico perché il muro era presente come persone sulla zona della palla ma non era senza le braccia e quindi un muro senza le braccia non è un muro il portiere è andato dalla parte opposta ma non c'è la copertura. Attacchi meno di un minuto e mezzo prima di andare all'intervallo Fanton palla ancora per Attacchi che prova ad andarsene verso l'esterno c'è uno scarico per la trombetta ma ha subito fallo Attacchi. Gioco che viene ora fermato dai due direttori di gara. Anche in questa situazione Attacchi ha scelto la cosa giusta ma è mancato un pizzico di catteleria un pizzico di velocità un pizzico di effressibilità o più. Secondo me un po' meno di paura in questa situazione devono avere. Si riparte con un 9 metri a beneficio delle azzurre Fanton Pittacchi Rotondo ancora Fanton ancora Rotondo che prova ad andare tra primo e secondo difensore aveva ceduto poi la palla a Babbo 9 metri ancora. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo vediamo come si comporta l'Italia in questa fase d'attacco e Attacchi ancora per vie centrali ancora 9 metri Fanton il pallone per il pivot c'è un fallo due minuti due minuti superiorità numerica costruita e conquistata dalle azzurre Ivana Godec deve accomodarsi in pacchina una giocatrice in più in questi intanto in questi 33 secondi che ci separano dagli spogliatoi e poi anche nell'avvio di secondo tempo nelle azioni precedenti su qualità numeriche abbiamo fatto una cosa molto buona e una cosa molto brutta con Peglia di Palla vediamo di giocarla bene questa Attacchi il pallone di ritorno subito per Fantolo poi Trombetta spazio per la conclusione apparato Raicic sprechiamo l'opportunità di accorciare di mettere dentro la nostra sesta assegnatura e concediamo invece al Montenegro con 13 secondi da giocare l'ultimo tiro di questo primo tempo Raicevic si sbraccia Azic in panchina vediamo qual è la soluzione del Montenegro è un tiro da fuori neanche troppo complicato da gestire per Monica Prunster 12 a 5 non sono tante le reti subite sono troppo poche quelle segnate esattamente come avevamo detto più o meno metà del tempo eravamo in proiezione 14 siamo arrivati a 12 il problema sono i pochi gol fatti però la squadra ha giocato la squadra ha resistito quando si gioca in difesa senza fare gol in attacco è ancora più difficile difendere loro lo hanno fatto bene manca un po' di aggressività nei momenti decisivi dell'attacco noi ci fermiamo Brac pubblicitario lì nella regia poi andiamo da Marcello Festa a bordo campo per le interviste nell'intervallo a tra poco intervallo della gara tra Italia e Montenegro Italia sotto generosa la prestazione fin qui delle azzure non è bastata però la generosità e il cuore per contrastare la superpotenza Montenegro con Francesco Doria del giornale di Brescia che ha accompagnato questa splendida avventura della nazionale qui a Brescia diciamo una bella risposta dal pubblico intanto qui a Brescia siamo contenti di questa risposta e poi il risultato è quello che sapevamo che il Montenegro è molto più forte stiamo facendo una gran fatica ad attaccare sulle ali mentre le loro ali hanno troppo spazio giusta 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 tanto tecnico abbiamo Anna Lattuca grazie Francesco Anna Lattuca consigliere federale Quota Lossa della FIGH grande spettacolo di pubblico grande atmosfera purtroppo l'Italia insomma sta arrancando intanto eh sì stiamo arrancando perché davanti abbiamo una corazzata che è il Montenegro non dimentichiamo che vice campione olimpico non per niente quindi per le nostre ragazze è parecchio difficile soprattutto riuscire a fare breccia nella loro difesa che sembra un muro invalicabile però dobbiamo dire anche la verità le ragazze ce la stanno mettendo tutta una squadra con il Montenegro che riesce a difendere così bene ancora non è riuscita a fare una prima fase quindi un contropiede perché le ragazze corrono come delle forse nate per recuperare quindi l'impegno è massimo purtroppo la differenza tecnica è quella non possiamo sicuro a zerarla in poco tempo quindi credo che stiano dando il massimo lo stiamo vedendo però adesso diciamo che va bene così va bene così non va bene il risultato ora ci fermiamo di nuovo la linea la leggea per alcuni comunicati commerciali poi rientriamo in studio abbiamo già in postazione il presidente della FGH Pasquale Loria con il quale faremo anche un po' il punto su quella che è l'attività al momento della FGH grazie intanto ad Anna Lattuca consigliere federale della federazione italiana gioco handball linea la leggea squadre che stanno facendo il loro ritorno in campo i compagni di Pasquale Loria presidente della federazione italiana gioco handball presidente buona con lice di pubblico bellissima atmosfera Italia che ha di là di un grandissimo impegno però non riesce a sfondare il muro del Montenegro ma Brescia ha risposto benissimo non avevamo dubbi su questo fatto è una città che è una società che sta crescendo molto e quindi l'organizzazione è stata perfetta il pubblico ed è eccezionale l'Italia purtroppo in questo momento ha mancato un po' nel cambio di ritmo secondo me è stata un po' timida soprattutto nelle conclusioni peccato perché questo era un primo tempo che si poteva giocare e poteva finire anche con un risultato diverso speriamo nel secondo ma comunque il processo di crescita di questa squadra mi sembra che sta continuando processo di crescita della nazionale azzura femminile processo di crescita anche della federazione italiana gioco in si stiamo cercando di operare su più fronti per dare una svolta all'attività di pallamano in Italia soprattutto per quanto riguarda in questo momento la base l'allargamento del numero dei praticanti gli incentivi per l'attività giovanile perché a parte gli sforzi sulla nazionale preparare il futuro è la sfida più importante grazie grazie Pasquale Loria abbiamo ancora Gianni Censi vicepresidente della FIGH poi una battuta in conclusione anche con Marcello Visconti consigliere federale che ha curato nei dettagli la preparazione della gara ecco vicepresidente Censi ancora una bella risposta di pubblico l'Italia ce la sta mettendo tutta forse anche un pizzico di sfortuna sì l'organizzazione io l'ho vissuta a Padova è senz'altro una cosa molto impegnativa si sono impegnati molto il pubblico sta rispondendo cerchiamo di sostenere con tutte le nostre forze le ragazze ecco però questa la politica portata avanti dalla federazione ovvero di coinvolgere i club nell'organizzazione dei grandi eventi credo che stia pagato sì sono convinto di questo sono stato il primo fautore da quando siamo partiti con il nostro progetto e il coinvolgimento delle società del territorio è la prima cosa e anche qui a Brescia si è lavorato in questa direzione per cui tanti tanti complimenti all'LNS Brescia grazie abbiamo Marcello Viscotti prima di restituire la linea al commetto tecnico di Matteo Aldamonte e Beppe Tedesco Marcello Viscotti consigliere federale che ha curato e ha sovrainteso un po' tutte le operazioni di organizzazione qui a Brescia esame sotto questo aspetto superato alla grandissima beh direi di sì la correnza di pubblico è più che dignitosa è stata un'impresa difficile organizzare un evento del genere non è una cosa molto semplice Palamano Onest si è impegnata molto abbiamo tenuto un buon risultato avanti con la partita avanti con la Palamano grazie grazie Marcello Viscotti bene si riparte dal meno 7 nella Palamano tutto è possibile 30 minuti da vivere tutti in un fiato le azzurre hanno già dimostrato di avere grande carattere lo hanno fatto recuperando con un mini break in un momento di oggettiva difficoltà speriamo che questa rimonta possa essere completata da linea a Matteo Aldamonte grazie grazie a Marcello Viscotti con i suoi ospiti torniamo dunque nella nostra postazione 12.5 alla fine del primo tempo è un primo tempo che dicevamo mister tedesco ci lascia forse un po' d'amaro in bocca perché l'impressione che abbiamo avuto è che non sia questa la differenza tra Italia e Montenegro almeno per quanto visto nel primo tempo per quanto abbiamo visto noi possiamo pensare oggettivamente che potevamo essere più vicini al Montenegro ma volevo dire alcune cose però di quelle che abbiamo visto al di là dell'aspetto del punteggio abbiamo visto una squadra un team Italia che ha giocato da team perché sono scese in campo tutte le giocatrici a parte la seconda portiera questo vuol dire che il livello della nazionale è abbastanza omogeneo perché non abbiamo avuto sbalzi né troppo alti né troppo bassi e questo è già un primo passo per la creazione di una squadra nazionale che non può essere solo l'unico elemento che è forte a livello internazionale abbiamo visto che il sistema difensivo è stato ben curato in alcuni aspetti perché la tanto tenuta Jaukovic è stata limitata è vero che questo ha portato qualche scompenso sulla difesa sulle ali ma non tutto si può fare in una volta sola abbiamo visto che manca un po' di aggressività nell'attacco e anche questo è un problema diciamo che è più relativo a tecnica individuale alla forza individuale delle singole giocatrici perché il sistema creato dallo staff ha giocato abbastanza bene insieme un parere sul Montenegro a me il Montenegro è impressionato in difesa in difesa perché nonostante noi non abbiamo tantissima forza nei terzini ha giocato molto compatta si è sempre mosso collettivamente in mezzo e se facciamo caso tutti i tiri delle nostre ali hanno avuto limiti di spazio molto angusti da cui andare al tiro anche da un punto di vista emozionale è arrivata la risposta comunque che ci si aspettava dall'Italia dopo quella brutta partita in Polonia si io non le ho viste depresse ho visto una squadra forse con un po' di paura in certi momenti ma che ha voglia di stare in campo ha soprattutto ha voglia di cercare di giocare come lo staff gli chiede e questa è una buonissima indicazione per chi lavora con questi ragazzi il secondo tempo sta per riprendere il pallone è nelle mani del Montenegro ultime indicazioni del nostro staff mentre stiamo rivedendo alcuni degli highlights del primo tempo che ci vengono proposti nella regia ultime indicazioni dicevamo da parte del nostro staff tecnico c'è una novità ed è Giulia Di Bona giocatrice che milita nel Brestanone specialista difensivo che viene proposta da Trillini al centro della nostra difesa a far coppia con Irene Fantolne è iniziato il secondo tempo palla in mano al Montenegro che attacca in questa ripresa da sinistra a destra nei nostri schermi maglia sempre ovviamente nera maglia azzurra per l'Italia Premovic per il primo possesso della ripresa 12-5 è la punteggio con cui si è chiuso il primo tempo qui alla pala San Filippo di Brescia Rajcevic Premovic la conclusione vincente di Iaukovic in appoggio ha bucato e ha superato il nostro estremo difensore siamo sul 13-5 subito una rete messa a segno dal Montenegro anche il primo tempo si è aperta con questo gol della Iaukovic dal centro qui abbiamo siamo stati incisi se fare muro o fare fallo non abbiamo fatto niente la Iaukovic ha fatto gol facile Rotondo Landri Fanton Gran palla per Delbalzo che si gira e la mette dentro ottima l'intuizione di Fanton ottimo il movimento di Delbalzo rete confezionata perfettamente dall'Italia bellissima combinazione e primo gol del pivoto in questa partita l'altra parte c'è un tiro dai 7 metri conquistato dal Montenegro con Iaukovic che ha trovato ancora una volta una buona azione la seconda consecutiva in questa ripresa opportunità dai 7 metri è stato un 1 contro 1 su Landri che probabilmente non se l'ha aspettato Raicevic dalla linea rete messo dentro 14 6 1 e mezzo mi sembra un ritmo più alto inizio del secondo tempo subito tre reti un minuto e mezzo tre gol due per Montenegro uno per l'Italia a 14 6 abbiamo detto il punteggio Landri rotondo Fantonna ancora Landri ecco del balzo rotondo una serie di finte c'è un fallo però ha i suoi danni Landri ancora rotondo pallone per Raffantonna che ha pintato molto bene l'incrocio è andato dentro e ha trasformato 14 7 bellissimo gesto tecnico della Fantonna e poi il palo ci aiuta ma ci aiuta anche una super Valentina Landri che va a riconquistare il possesso del pallone possiamo attaccare in velocità Raffantonna il pallone è finito oltre la linea laterale un passaggio non preciso stavolta di Fantonna poi riesce in una fase di rientro e tacchi a bloccare quest'azione del Montenegro l'azione è nata male prima perché la rotondo doveva andare al tiro non doveva passare quella palla Pruster e la ribattuta è di Giulia Di Bona riconquistiamo ancora un pallone ma dobbiamo poi saper trasformare in qualcosa di prezioso di utile ciò che andiamo a recuperare ecco Di Bona il pallone sul palo e fuori non ha avuto paura però Di Bona nonostante venga impiegata come specialista difensivo di andare alla conclusione palla che però è finita sul palo terzo pallone consecutivo recuperato dall'Italia vediamo il lancio di Pruster Babbo con una mano Babbo e il pallone che viene parato da Raicic super ricezione super ricezione della Babbo su un grande lancio della Pruster probabilmente dovrà fermarsi perché è una posizione troppo svantaggiosa per tirare è stato un gran lancio di Pruster una gran ricezione come diceva coach tedesco di Giada Babbo che però poi non è riuscita a superare Raicic giocatrice classe 97 Giada Babbo nonostante la giovanissima età già uno dei punti di forza le vice campioni seritali dell'Indeco Conversano il Montenegro intanto dall'altra parte va a trasformare con la sua ala sinistra Ivona Pavicevic che supera Monica Pruster 15-7 purtroppo non riusciamo a correggere questo aiuto eccessivo che viene provato sul terzino che scarica la palla facilmente all'ala le ali del Montenegro ci stanno facendo male rotondo Fantonna con due pivot l'Italia Fantonna si alza coinvisione violentissima imparabile per Raicic grandissimo gol della Fantonna e grandissima soluzione che la staff italiana ha adottato togliendo un mancino dal terzino destro e lasciando giocare Fantonna e Landri che hanno già fatto tanti gol da quella posizione abbiamo visto il replay effettivamente davvero un gran gol da parte di Fantonna un gran gesto tecnico è il gol numero 8 per l'Italia una delle cose più belle che abbiamo visto stasera però da incorniciare questa legge di Fantonna ottima anche questa chiusura difensiva delle azzurne molto buona da me una provocazione in cui il Montenegro è caduta non è di ritorno stavolta ci siamo distratti e la Vukovic si è fatta pescare tutta sola sulla linea dei 6 metri tiro dai 7 metri ed ecco anche l'ultima della panchina italiana che tocca il campo quindi tutta la squadra è entrata in campo dopo 35 minuti di gioco si tratta di Elisa Ferrari portiere classe 93 fa coppia proprio con Pruster anche nel club anche nella Ioni Salerno proverà lei a neutralizzare questo tiro dai 7 metri palla che però le finisce tra le mani la gole di Rajcevic e siamo sul 16 a 8 al 35esimo riprende in posto tra i pali Pruster nel final dell'Italia rotondo per questo nostro attacco Landri Fantonna Del Balzo rotondo Landri ancora il tiro di Fantonna seconda con Cuswer vincente dalla linea di 9 metri Irene Fantonna grandissima giocata anche questa ma più che per l'esecuzione individuale per la velocità con cui ha girato la palla che ha permesso a Fantonna di tirare negli spazi di tirare negli spazi dicevamo in corso di telecronica nel primo tempo giocatrice del 94 secondo anno nella campionata norvegese passata dalla seconda alla prima lega veste la maglia quest'anno del Glaswerke dove ha messo quella pallona adesso Jaukovic ha tolto le ragnatele dall'incrocio dei pali questo è un gol che non ci deve spaventare perché una grandissima giocatrice questa palla la può mettere in quella posizione non dobbiamo prendere gol ingenio siamo al 36esimo minuto Landri la pallone per rotondo ancora Landri che va a chiamare Del Balzo che però viene braccata dalla difesa Montenegrina allora bisogna ripartire con Fantor che ha già trovato due conclusioni consecutive a rete il tiro da parte di Rotondo il boato del pubblico la dice lunga la palla era entrata in porta gli arbitri però decidono per un fallo è una due minuti per la numero 10 Montenegrina Bernovic non c'è stata nessuna infrazione nessun bisogno di fischiare il fallo prima della palla che la palla concludesse il suo tragetto è un errore dall'inizio della partita che stanno fischiando in questa maniera gli arbitri doppia svedese Smailagic Smailagic Landry Rotondo Fantom siamo in super unità numerica adesso Rotondo si alza e spiazza Rajic il gol numero 10 dell'Italia che va in doppia cifra 17 a 10 al 37esimo posso azzardare un'ipotesi che dopo il primo tempo le ragazze abbiano capito che non hanno di fronte una squadra con cui non è possibile giocare ci hanno messo un po' di tempo ma adesso un'ipaiono molto più sciolto in attacco vedremo se appunto questa scioltezza questa rinnovata propizione ad attaccare dell'Italia sarà decisiva in questo tentativo di rimonta che comunque lungo sette reti ci dividono nella Montenegro Premovic gran difesa delle azzurre la ripattuta però è ancora del Montenegro ma sul pivot ma che difesa ancora di Valentina Landry stravolta stiamo difendendo molto molto bene abbiamo coraggio in questo momento vogliamo questa palla la vogliamo prendere Piaukovic Despotovic Premovic si riprende a giocare in sette è uscito l'estremo difensore Raicic del Montenegro quindi il Montenegro con sei giocatrici di movimento lascia la porta la sbuorita Piaukovic è stato palla attenzione possiamo accelerare c'è Etachi tutta sola Etachi raccoglie con una mano Etachi in contropiede rete di Rafiki e Etachi 17-11 difesa eccellente dell'Italia e poi su contropiede bravissima Rafiki finalmente questo è il gioco che l'Italia deve vuole fare sta provando a fare magari arriva poco alla volta ma arriva perché questa è un'azione splendida che ci fa divertire grande determinazione in difesa l'aveva detto coach tedesco l'Italia voleva quel pallone se l'è preso e ha messo dentro con Etachi l'undicesima straordinario il fatto che nonostante loro giocassero 6 contro 6 abbiamo aumentato l'addissimità volevamo l'anticipo perché sappiamo che in quelle situazioni la squadra sta preparando il rientro di uno giocattrice fuori il pubblico di Brescia ha capito il momento e si è usato il coro Italia Italia perché il coraggio delle nostre azzurre è arrivato fin sugli spalti Premovic ci difendiamo ancora bene il Montenegro prova a riorganizzarsi Iaukovic Despotovic le sue finte di passaggio Despotovic Iaukovic larga la palla ci siamo stavolta però dimenticati colpevolmente dell'ala ci pensa una Monica Proster monumentale a salvarci forse la prima parata di Monica dall'ala ma veramente importante perché c'erano 4-5 metri di spazio per il tiro e non dovevamo prendere gol perché stiamo giocando bene abbiamo rivisto nel replay la parata di Proster estremo difensore della Iomi Salerno Despotovic Lukic poi Iaukovic dalla distanza palla all'incrocio dei pali ha preso per mano la squadra Iaukovic adesso è il momento in cui hanno bisogno della Iaukovic ma questi gol sono accettabili sono gol di un fuoriclasse il sistema difensivo non deve prendere gol che sono ingenui che sono facili da evitare Fanton l'Italia che col passare dei minuti ha preso coraggio in particolar modo in una fase offensiva che forse era stata era mancata nel corso del primo tempo a rotondo proviamo ad accelerare il ritmo Landry il tiro di Landry l'ultimo tocco poteva forse essere del muro non sono dello stesso avviso però gli arbitri il cambio di possesso abbiamo fatto più gol in 9 minuti del secondo tempo che in tutti i 30 minuti del primo tempo Premovic Despotovic Vickic poi Jaukovic palla direttamente in mano al Brewster riconquistiamo il possesso proviamo ad accelerare in seconda fase ora di Bona Fanton Fanton va verso sinistra Fanton si incunea dentro senza paura tiro dai 7 metri abbiamo detto prima che Montenegro ci attaccava nei momenti di transizione difensiva lo stiamo eseguendo anche noi questa terza fase o seconda fase prolungata dell'attacco e abbiamo frutti da questo incinta dalla linea Giada Babbo la finta di Babbo ancora una finta spiazzato l'estremo difensore del Montenegro gli applausi della Palla San Filippo il gol di Giada Babbo per la dodicesima segnatura italiana ridotto a 6 reti il divario attacco Montenegro Despotovic Premovic Jaukovic Premovic ancora va in elevazione Jaukovic c'è l'uscita di Fanton deve lasciare con un incrocio ancora Premovic va in palleggio va però a sbattere contro un'Italia coriace questo Montenegro cambio di possesso riconquistiamo una pallone prezioso lo raccoglie con una mano ancora Itachi Itachi rete di Rafi Itachi azione ancora una volta super dell'Italia 18-13 all'undicesimo del secondo tempo ma fantastico il coraggio con cui abbiamo lanciato questa parte della difesa per non parlare del gesto tecnico straordinario della ricezione a una mano di Itachi in questo secondo tempo c'è da dire che l'apporto sta arrivando in maniera importante da due giocatrici assenti in Polonia Rafi Itachi Renefantone ma è tutta la squadra chiaramente che sta giocando un altro secondo tempo che ha preso fiducia e ora Pruster sulla ripattuta attenzione Jaukovic è la più veloce della Montenegro hanno perso l'attimo di Bona e Fantone 9 metri aveva parato Pruster poteva essere un altro recupero importante gioco che viene fermato dagli arbitri siamo sotto di 5 reti al 41esimo minuto Matteo siamo sopra i due reti all'undicesimo del secondo tempo questo è un segnale molto importante per questa squadra di questo dobbiamo nutrirci di queste piccole direzioni di fiducia si riprenderà si riprenderà a giocare da 9 metri in favore del Montenegro Jaukovic la palla per Despotovic poi Premovic prova lei un cambio di direzione ancora Jaukovic che però non ha spazio è finito a terra il pivot ci sarà con ogni probabilità una sanzione vediamo sì due minuti per Etachi per la scorrettezza a palla lontana sul pivot del Montenegro superiorità numerica quindi per le nostre avversarie non dobbiamo ovviamente lasciarci abbattere da questa sanzione non so se hai visto la faccia dell'allenatore Montenegrino che la scuoteva scuoteva la testa perché non è contento ma perché l'Italia sta giocando meglio di quello che lui si aspettava sicuramente Tespotovic è naturalmente l'auspicio è quello di vedere un'Italia così fino alla fine un gran cambio di versante che porta a questa rete del Montenegro con Diana Uikic che si è sempre fatta trovare pronta fino ad ora e sta dando un grande apporto in termini realizzativi alla sua squadra ma questo è un primo gol accettabile all'Ala perché va uno in meno abbiamo dovuto stringere al centro abbiamo rischiato qualcosa questo ci può stare Italia con sei giocatrici di movimento porta sguarnita vogliamo provare a giocarsela però in parità numerica nella fase d'attacco del balzo Fantonna Rotondo l'incrocio per Fantonna ancora che va in palleggio lascia la pallone a Landri una serie di incroci dell'Italia Rotondo il suo palleggio deve fermarsi deve ragionare protesta Landri perché si è vista trattenere vistosamente la maglia si deve ricominciare ancora Rotondo dalla distanza Rotondo il muro e c'è l'intervento ma la palla recuperata da Landri che è tutta sola Landri Landri in rete di Valentina Landri che coraggio che determinazione è questa ragazza 19 a 14 questa è una ragazza speciale lo sappiamo tutti ma in questo momento in 5 contro 6 andare a recuperarsi questa palla è una dimostrazione ulteriore per una super Valentina Landri siamo alla 43esimo minuto stiamo riuscendo a superire a quella mancanza di una giocatrice che ci vede in inferiorità numerica con un grandissimo coraggio ora dobbiamo comunque tenere alto il ritmo della nostra difesa Jaukovic Premovic lo scarico palla fuori abbiamo costretto all'errore il Montenegro e Landri al piccolo trotto adesso perché l'Italia ovviamente ha tutto l'interesse a farla trascorrere qualche secondo per tornare a giocare in 7 contro 7 Landri sta per rientrare Babbo che è pronta nella zona di cambio ancora rientrare in gioco si torna in 7 contro 7 del balzo come pivot rotondo Landri parole per Fanton ancora Landri va a tagliare Fanton che poi riesce nella posizione di tensione sinistro fa ruotare ancora velocemente il pallone l'Italia rotondo lo scarico per Fanton che prova la penetrazione rotondo ancora il pallone che gira veloce a spazio Gheorghe che però fallisce la sua seconda conclusione consecutiva dall'ala ancora una volta ha dato l'impressione di tirare con troppa fretta Gheorghe non prende tutto lo spazio che può prendersi Jaukovic per il Montenegro Rajcevic poteva essere la palla del meno 4 quella che è passata per le mani di Gheorghe che però ha concluso direttamente addosso a Nenezic estremo difensore Montenegrino che ha sostituito Maria Rajcic e poi il Montenegro stavolta con un'azione solitare di Rajcevic riesce a mettere dentro il 20 a 14 torniamo a giocare cambio esce Gheorghe e Taki come alla destra ci sono una serie di cambi esce anche Landry rientra Giussi Ganga una rotazione sistematica dopo 15 minuti per garantire la squadra freschezza mi trova perfettamente d'accordo rotondo del balzo ancora rotondo che si alza il palo che sfortuna rotondo stavolta questo è un tiro ancora di livello internazionale davvero buonissimo rientro difensivo riusciamo a riposizionarci il Montenegro poi però trova il gol con Jaukovic che in appoggio batte Pronser siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di partita 21 Montenegro 14 Italia rotondo fantonna Ganga rotondo ancora sensata anche Pina Napoletano in panchina vedremo se andrà a sostituire già da Babbo rotondo Ganga con due pivot l'Italia anzi no perché rotondo riprende posto al centro fallo su Etaki che è andata a costruirsi questa sanzione con un'ottima intuizione una camera di direzione che ha costretto al fallo l'avversaria due minuti per Pavicevic allora sono stato impreciso prima perché Pia Napoletano ancora non era entrata e completa la rotazione con lei fra qualche secondo rotondo ganga ancora rotondo la conclusione alta questa volta fuori misura questo tiro di Laura Rotondo che esce nella fase difensiva viene sostituita invece da Giulia Di Bona con grande calma il Montenegro che può contare sul vantaggio deve invece fare i conti con una situazione di inferiorità numerica entrata ora con il numero 96 Itana Grbic Premovic Jaukovic inizia lei l'azione con questo uno contro uno poteva starci sì forse il passi di Jaukovic nel principio dell'azione Montelegrina ancora lei che va a pescare il pivot ci difendiamo bene Grbic poi ancora Jaukovic c'è Jaukovic il tiro apparato Pruster che non vede nessuno però per un lancio si riparte da Fanton ha chiamato nel ritmo dell'azione più basso Trillini dalla panchina che vuole un attacco ordinato delle sue giocatrici non c'era effettivamente spazio per andare in velocità ganga rotondo Fanton ancora rotondo poi poi Fanton rischia anche lei qualcosa con questo attacco ganga rotondo gran palla per il pivot del balzo non aveva ben consolidato il possesso di palla non poteva essere a sette metri nove metri infatti rotondo aveva trovato comunque un buon passaggio per la compagna abbiamo visto nel rallenti rotondo ancora rotondo il tiro di Laura rotondo che supera non esisce conclusione sensazionale di Laura rotondo Premovic dall'altra parte il suo tiro Bruce era parato ma c'è fallo e due minuti per Di Bona eravamo sempre un po' in fuori equilibrio e quando siamo fuori equilibrio rischiamo sempre i due minuti sono pesanti per la nostra difesa nove metri siamo purtroppo ancora una volta in inferiorità numerica dobbiamo serrare le fila Verbic Jaukovic azi Rajcevic Premovic dato possibilità di rifiatare a Jaukovic il tecnico Dragan Azic il tiro ha parato Pruser che era lì ad aspettare quel pallone a letto con anticipo le intenzioni di Rajcevic il nostro capitano rivediamo nel replay la parata una grande partita di Monica Prunst fino a questo momento molto di questo risultato è frutto delle sue parate Rotondo ha chiamato uno schema nel nostro centrale Giussi Ganga vediamo come si comporta adesso l'attacco azzurro ecco Delbalzo c'è il taglio di attacchi che chiama viva voce il pallone non la vedono però le compagnie un incrocio per Ganga che prova un passaggio difficilissimo in mezzo a una selva di mani siamo fortunati perché il difensore Montenegrino è stato sbilanciato e ha commesso un'invasione davvero un'ingenuità questo passaggio perché la difesa lo stava aspettando Ganga ecco la Napoletano entra anche Pina Napoletano tutte sedici le giocatrici a disposizione di coach Riccardo Trelin dunque vengono impiegate in campo del balzo rotondo Ganga Larga la palla per Attacchi continua a far girare incessantemente il pallone di Italia stavolta però ne perdiamo il possesso e il contropiede del Montenegro è vincente Uikic 22 a 15 il problema in queste situazioni è non perdere palla se possiamo se riusciamo a tirare anche se non facciamo gol abbiamo tempo per ripiegare se perdiamo palla siamo completamente fuori equilibrio completamente il contropiede poi diventa difficile riuscire a coprire sulla velocità di giocatrici come Uikic che è andata tutta sola a mettere dentro Italia sempre in inferiorità numerica ma sempre con 6 giocatrici di movimento e Proster in panchina e ora si torna a giocare in 7 contro 7 quindi Proster può riprendere regolarmente posto in porta rotondo Fanton prova a far tutto rosso la largo e la pallone ancora per Ganga ha provato Italia liberare Delbalzo fallo perché Delbalzo era ben marcata dalla difesa avversaria secondo me Rotondo deve essere più aggressivo in certe situazioni di gioco ci sono degli spazi e lei deve prenderli perché ha un bellissimo tiro e una buona velocità di esecuzione Fanton il balzo ecco Rotondo passivo alta a conclusione di Rotondo e ci sono due minuti due minuti ai danni del Montenegro in particolare ai danni di Branca Conatar saremo quindi in superiorità numerica la palla comunque nelle mani del Montenegro dopo l'errore al tiro di Rotondo adesso Rotondo ha dovuto prendere un tiro in fretta perché c'era passivo prima c'era lo spazio e ha rinunciato al tiro ecco queste scelte devono essere ben ponderate perché lei è pericolosa e deve rendersi conto di questo Likic Premovic Rajcevic e perde palla il Montenegro che ci regala letteralmente questo possesso dobbiamo andare in velocità Fanton per Napoletano che tiene in vita un pallone che sembrava finito oltre la linea laterale purtroppo non ci siamo accorti che non c'era il portiere non abbiamo avuto la lucidità tale da poter guardare la porta vuota Ganga rotondo largo per Fanton che arriva lanciata libera e Taki palla finita sulla base del palo poi la ribattuta raccolta da Cappellaro ancora attacco Italia Rotondo Ganga time out time out chiamato da coach Ernani Savini sulla panchina azzurra dunque interruzione voluta dalla nostra panchina dal nostro staff tecnico e opportunità per riorganizzare le idee con il cronometro che dice 8 minuti alla fine 22 a 15 secondo tempo siamo 0 a 0 e questo è un buonissimo segnale come ho detto prima del vantaggio al quindicesimo voglio fare una cosa le nostre ali non hanno ancora fatto gol dalla posizione di angolo e la differenza non tutta ma in buona parte in questo particolare stiamo rivedendo alcuni degli highlights questa è una gran gol di Bianca del Balzo effettivamente abbiamo messo in fila qualche errore di troppo dalle ali mentre sull'avversante Montenegrino sono arrivate puntuali le segnature delle nostre avversarie e il divario non sta tutto lì ma in gran parte effettivamente 22 a 15 dopo la time out della nostra panchina che chiaramente non può desiderare una rivoluzione perché effettivamente l'Italia sta giocando bene assolutamente adesso usciamo da un primo di rischio da un'altra di rischio questa azione con il gioco di afferci questo è servito da un time out di organizzare questo attacco Rotondo prova a finalizzare con una conclusione violenta buona risposta però di Nenicic che è da segnare una gran parata l'azione era giusta perché Rotondo ha tirato nello spazio creato dalla giocata della squadra davvero una buona parata in questo caso il stesso riparo del Contenegro Rajcevic Premovic il pallone ancora della formazione di Azic Uikic Rajcevic che è di fatto l'unica che è rimasta in campo per tutti i 52 minuti giocati 53 in questo momento viene fermato il gioco per asciugare il campo abbiamo rivisto l'azione con il fallo di Rene Fantona ai danni di Rajcevic dobbiamo stringere i denti questi 7 minuti dobbiamo avere la voglia di stare in campo e di fare ancora meno Gerbic Uikic Rajcevic che lascia con un incrocio per Premovic provano di impegnare la nostra difesa dei giocatori del Montenegro prova Pavicevic ad andare alla conclusione ha restato qualcosa giù di gara che però è riuscita comunque con questo fischio dei direttori di gara a commettere i falli 9 metri il tiro murato ottima difesa dell'Italia poi Prostner riesce a evitare che da passaggio sia ancora delle nostre persone c'è la rata la costa in campo eccola in possesso non ha spazio però per la conclusione prova a forzare la mano poi per Ganga prova a muoversi ottimo è il movimento di Giusy Ganga ottima la pinca ottimo ottimo movimento di Cappellaro che ha impegnato il difusione ha dato spazio al nostro centrale 22 a 16 è ottima anche la costruzione della gioco in velocità un incrocio ha iniziato l'azione non si sono più fermate hanno trovato gli spazi giusti è stato un fallo 9 metri mancano meno di 6 minuti alla fischio di chiusura Italia lo dicevamo ha giocato in accrescendo il suo secondo tempo anzi un ottimo secondo tempo nella formazione azienda io penso che Montenegro ci stia rispettando tutta la gente andiamo andiamo da Riccardo Trellini sentiamo il tempo benissimo il lavoro in seconda e terza pagina adesso insistiamo è il momento di mettere pressione su questa difesa ok forza 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 Germania 3 Germania 3 destra facciamo tutti e due l'incroci se riusciamo intanto un passaggio veloce il direttore tecnico è bello vedere come ci sia uno staff che lavora hanno parlato Sabini questo è fondamentale è un ruolo dobbiamo crescere tutti uno staff deve lavorare insieme sulle cose che si preparano in allenamento Hernani Sabini ha la responsabilità della conduzione della panchina come abbiamo visto Palazzi e Trellini coordinano e coordinano lo staff credo che sia stato giusto tutte e due le cose che sono state dette bisogna ancora crederci perché senza la volontà senza la mentalità non si può andare avanti e poi ci sono un richiamo all'esecuzione tattica dei compiti in campo per il giro di palla della Montenegro è invasione pallone riconquistato dall'Italia passaggio lì dalla costa è un brutto passaggio direttamente sui piedi di Etanchi abbiamo tanto faticato per riconquistare quella palla ma altrettanto velocemente abbiamo spregato fallo su Rajcevic mi dispiace per questa palla in uscita perché non ce la meritavano Giorbic Raimovic Rajcevic ancora le sue finte va verso l'esterno poi arriva con un treno Giorbic che però conclude fuori non c'entra lo specchio della porta ci aiuta questa volta il Montenegro con questo errore possiamo ripartire in attacco Ganga D'Ata Costa Farton e D'Ata Costa cambierò inverto le proprie posizioni Germania a destra la chiamata e D'Ata Costa Ganga Farton per D'Ata Costa e Taki deve risalire perché non c'è spazio la difesa di Pabicio di C.O.K. la fermata ancora attacco Italia a meno di 5 minuti alla chiusura 22 a 16 la punteggio D'Ata Costa Farton D'Ata Costa dove effettivamente è stata una sera taccia poi c'è il gol del Montenegro 23 a 16 mancano 3 minuti la nostra posizione la nostra posizione non sarà ottimale ma secondo me era gol pare che noi vediamo un'altra partita esattamente esattamente dicevamo è entrata Sofia Aguilardi classe 99 è stata accolta da un boato perché è la beniamina di casa giocatrice che milita nella Leonessa Brescia dunque gioca davanti al suo pubblico al pubblico di casa gioco che viene fermato adesso dal delegato di HF il Cipriota Telemacos e San Vides che deve aver notato qualcosa nei pressi della panchina del Montenegro il gioco è fermo 57 e 14 complessivi giocati nel corso della sfida semplicemente un po' d'acqua davanti alla panchina ma pericolosa per l'entrata in campo delle giocatrici abbiamo rivisto ecco nel replay la palla è entrata clamorosamente avvarcato ma di molto la linea di porta quindi ancora ci vediamo esattamente anche senza aiuto del replay l'avevamo già visto nel primo tempo su quell'invasione di Babbo palla che era entrata ancora la regia ci ripropone il replay ecco il momento in cui il pallone varca in maniera netta per intero la linea di porta possiamo iscriverci a un corso arbitro in un tempo si riprende a giocare dicevamo 57-14 sulla cronometro 23-16 il punteggio Premovic Kerbic Pabicevic ancora Premovic ottima difesa di Dilario con questo un gran pallone lancia il tagli nel contropiede il tagli devanzare la testa fa tutta la sola il tagli errore che per la terza volta e questa partina se n'era andata sola stavolta sbagliata questo è stato un errore di concetto perché avevamo un 3 contro 1 che dovevamo sfruttare sbaglia anche la Montenegro con la Despotovic situazioni come queste in contropiede quando una portiera vede palleggiare 4-5 volte una giocatrice può tranquillamente trovare il tempo di parata se invece la palla fosse stata spostata sull'altra giocatrice la portiera non avrebbe avuto niente da parare Chilardi prova lei la conclusione parata da Nemez che poi Duriela palona oltre la linea di fondo ci ha provato con coraggio Sofia Chilardi un tiro però piuttosto centrale il suo ecco Cappellaro che prova un anticipo difensivo che non riesce lascia scoperta la posizione di tiro c'è sempre una super proster a chiudere la porta Chilardi ecco la palla per Fantone prova ad andarsene con lo scalcamento Fantone lascia Cappellaro larga la palla per Napoletano che fallisce conclusione alta avevamo costruito un gran tiro buonissima azione secondo me c'era una sanzione di due minuti anche se era giusto per facciare andare in vantaggio per il tiro della Napoletana traversa con l'intervento Monica Pannuster che ha deviato col pallone Cappellaro poteva andare tutta sola ha dato le spalle alla porta non si è accorta effettivamente che c'era una voragine dritta avanti a sé ultimi 50 secondi sarebbe bellissimo chiudere con un gol e ci chiamiamo un time out per farlo time out esatto chiamato dalla nostra panchina vediamo troviamo la possibilità di andare ad ascoltare di non trillini da oggi ci propone il time out di adic . . . . . . . Non è stato gratuito! Sono stati la meraviglia di Napoli e non è possibile che sia possibile in passato, in passato! Non è possibile, non è possibile! Sì, non è possibile! Non è possibile, non è possibile! Sì, non è possibile! troppo pochi per recuperare interamente il gap ma l'Italia vuole chiudere nel migliore dei modi qui davanti ai 2000 spettatori di Brescia questo è una cosa e sicuramente dello staff tecnico venuta l'indicazione che siamo 1-0 per l'oro nel secondo tempo e vogliamo il pareggio per questo secondo tempo si sta per riprendere a giocare Milardi Dallacosta Ancora Ghilardi Di nuovo Dallacosta che perde l'appoggio finita a terra può ancora giocare l'Italia Fatto per Ghilardi va a muoversi Fatto sulla linea Ghilardi Sofia Ghilardi ha dato per un attimo l'illusione del gol il pallone ha fatto davvero la barba al palo definito fuori poteva essere l'ultimo gol azzurro con la firma della giocatrice di casa ultimissimi secondi vuole la difesa concentrata fino alla fine il nostro staff tecnico arriva in attiro 23 a 16 finisce così la sfida 23 a 16 vittoria dunque della Montenegro io darei subito la linea a Marcello Festa Bordocampo che è con Stanislau che è il consigliere federale in Polonia abbiamo finito il primo tempo di 8 e poi purtroppo è andato come andata qui il primo tempo sotto di 7 è sviluppato parziale invece in parità vediamo il bicchiere mezzo pieno come sempre ottimisti dobbiamo andare avanti abbiamo un programma l'idea è chiara un programma serio dobbiamo cercare l'aiuto delle società il contributo delle società io penso che tutto passi di là ecco il fatto di aver tenuto testa comunque una corazzata come un Montenegro per quanto ringiovanita rispetto ai passi di qualche anno fa è un punto di partenza che lo deve rappresentare assolutamente sì noi dobbiamo avere paura dobbiamo essere convinti che siamo una squadra ben amalgamata sono delle splendide ragazze hanno è un mix tra ragazze giovani e ragazze un po' più esperte sono un gruppo molto amalgamato stanno bene insieme io dico che dobbiamo ripartire da qua e dobbiamo lavorare dobbiamo essere ottimisti dobbiamo crederci dobbiamo soprattutto trovare un percorso condiviso con le società bene grazie grazie a Sanisola Rubinetti rubiamo l'Italia da una cosa sta rientrata freddolosamente negli spogliatoi Monica Puster capitano della Nazionale Azuna Monica la prestazione è sicuramente orgogliosa da parte dell'Italia avendo riscattato si è pur perdendo la brutta parentesi ci siamo un po' sbloccati diciamo un po' tardi c'è il secondo tempo all'inizio sembravamo un po' bloccate e pensiamo che dobbiamo continuare così iniziare come abbiamo iniziato il secondo tempo e crescendo c'è piano piano bene grazie grazie Monica Puster rubiamo ancora una battuta finale con Erlani Sabini assistant coach di Riccardo Trillini una buona Italia soprattutto nel secondo tempo ma sicuramente ci sono stati molti progressi rispetto alla partita in Polonia siamo contenti della capacità delle ragazze di rimanere in partita nonostante il break iniziale del Montenegro questa da parte loro è stata una bellissima dimostrazione di carattere bene grazie grazie Erlani Sabini se puoi seguirmi vediamo ancora qualche protagonista del confronto Rafika e Taki insomma la Polonia è ormai dimenticata insomma è un'Italia che esce a testa altissima dal confronto con il Montenegro sicuramente abbiamo fatto un grandissimo passo dalla Polonia si è visto più cuore, più grinta, più gioco di squadra purtroppo i tiri da fuori non ci sono entrati su questo lavoreremo e secondo me da adesso in poi dobbiamo solamente guardare in avanti bene grazie grazie Rafika e Taki è proprio tutto qui dalla Palazzo San Filimmo di Brescia ricordo il risultato finale il Montenegro è in Italia 23 a 16 sconfitta che ci poteva stare contenuta nel divario che dà sicuramente segnali di speranza al movimento azzurro soprattutto per quanto riguarda la nazionale femminile guidata dal direttore tecnico Riccardo Trillini allora Matteo Aldamonte a Beppe Tedesco per i saluti finali sì grazie Marcello mister siamo davvero in chiusura una battuta finale in Italia ci è piaciuta a me, a te è piaciuta giustamente anche con qualche preposità nel primo tempo ma già nel primo tempo avevamo visto qualcosa di buono con il fatto di riuscire a rimanere nonostante i pochi gol in partita secondo tempo è stato straordinario perché sono entrati dagli spogliatoi convinti di poter giocare hanno fatto vedere alcuni pezzi di bella palla a mano stanno credendo nella proposta di gioco del nuovo staff siamo davvero ai saluti mister Tedesco grazie per essere stato con noi grazie a tutti voi e grazie, grazie a chi ci ha seguito il nostro auguro da Matteo Aldamonte è tutto da Brescia è tutto come sempre buona palla a mano a tutti alla prossima